Venerdì si dovrebbe conoscere il futuro del rigassificatore di Piombino. La Golar Tundra è arrivata nella notte fra domenica e lunedì nel porto toscano dove rimarrà per tre anni fra le proteste della comunità locale ma con l'entusiasmo del governo. Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha evidenziato come grazie ai due impianti di Ravenna e Piombino si dovrebbe riuscire a produrre 13 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Il ministro ha anche sottolineato come entro un anno l'Italia potrebbe fare a meno del gas russo. Snam in questi giorni ha pubblicato i dati relativi al consumo di gas in Italia. Da 75 miliardi di metri cubi all'anno si è passati a 68 miliardi compensando grazie all'Algeria e al TAP la riduzione dei volumi provenienti dalla Russia. Il consumo del gas russo è infatti calato da 29 miliardi di metri cubi all'anno a 11 miliardi nel 2022. Dal canto suo il commissario straordinario per il rigassificatore toscano, il presidente della regione Eugenio Giani ha ancora una volta rimarcato come le ipotesi sul futuro del rigassificatore di Piombino siano due, entrambe offshore. Una nell'alto Tirreno, lontano appunto dal porto di Piombino. Una nell'alto Adriatico, con tutti i pensieri a convergere su Ravenna, anche se ancora comunicazioni ufficiali non sono state avanzate. I test in Toscana inizieranno a fine aprile, la produzione a maggio, completati gli allacci con il metanodutto a terra. A Punta Marina, l'impianto dovrebbe entrare in funzione nel 2024. Nelle prossime settimane dovrebbero cominciare i lavori. Attorno al rigassificatore toscano, però, appendo un ricorso al TAR, ma le istituzioni regionali sono convinte che anche in caso di sentenza negativa la produzione di gas, che ormai sarà iniziata quando si pronunceranno i giudici, non sarà fermata. Per il rigassificatore di Ravenna, invece, è stata inviata in regione una petizione per chiedere la sospensione dell'autorizzazione a procedere con i lavori.